La storia della biblioteca di economia comincia nel luglio del 1933, con la compilazione di un nuovo registro di ingresso delle pubblicazioni, autonomo rispetto a quello della biblioteca di giurisprudenza. Libri e riviste, man mano inventariati, costituiscono il fondo specializzato del Gabinetto di Statistica, un piccolo istituto creato all'interno della Facoltà Giuridica dal professor-senator Pietro Sitta, che nel 1902 è docente di economia politica. Nel 1945 il Gabinetto diventa Istituto di Finanza Pubblica e dal 1955 Istituto di Economia e Finanza, che aggrega gli insegnamenti di materie economiche della Facoltà di Giurisprudenza. La biblioteca cresce intorno al suo originario nucleo di opere di statistica e si allarga i settori di economia politica, finanza pubblica, storia del pensiero economico, diritto tributario. Quando nel 1998 vengono fondati il Dipartimento e la Facoltà di Economia, la biblioteca si sviluppa ulteriormente, con il settore dedicato all'economia aziendale. Dal 2006 la biblioteca di economia occupa un'intera ala di Palazzo Bevilacqua Costabili, con quattro piani e 132 posti nelle sale di lettura, con i libri accessibili a scaffale aperto. Grazie a tutti.